ah ma il raid a che ora si fa? a 9 e mezza? che è successo? a lei no che c'è? che c'è? dimmi che c'è? dimmi volevo sapere che è successo mi sono spaccato lunga ah come se fosse mutato? e chi ha la mutata? ciao questa è rotta questa è rotta questa è rotta è rotta ora me la sto prendendo stai tranquilla un'altra attima vedi perché quando fai? perché sei te sei te sei te sei te e che non ho capito non esagerare hai capito? non sei nella condizione non posso valutare di vedi che se qualcuno di voi non è che sei te tu non è che sei te in quarantena devi fare devi fare non devi fare ma già ma ma ho troppo le temi più fai si non è che ci sta per 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 Grazie. 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 Andrea se l'ha portata la mascherina perché sta qua la mascherina quando volete iniziamo le danze ciao grazie ciao ragazzi ciao stai infatti non lo vede non c'ero ero non c'ero è entrato è aspetta che c'è un fatto aspetta e come mai allora mi sono andato con il microfono tappato forse non c'ero e ho staccato un microfono ah può essere che eh no perché eravamo lì a tirarci scemi che non riuscivamo a capire non c'erano più tutto è possibile che cagata di questo ma non c'ero ragazzi non c'ero no ho capito però ci dava come quando ti mutano no io calcola ti vedevo in gruppo stai io e Paulino ti vedevamo in gruppo ma c'ero qua qua ero ma io non ho staccato la guerra cioè sì ah può essere che aveva disattivato il microfono non sapete se non è ah bene queste che hanno cambiato nel mio giorno sì so io so comunque volevo parlare di rato Massimo ho parlato con quei ragazzi eh che ha detto vuole parlare con me eh io avevo detto devo parlare con il capo mica devi parlare con me che sento no vuole parlare con me di mani ah ok ok eh sì lo sai che è questo eh te la confermo no mi fa molto piacere che mi fa molto piacere che comunque vedi eh sai c'è sempre gente che si sai è educato mi ha ringraziato via messager mi ha fatto molto piacere dai pensiamo bene che tipo è poi dobbiamo ringraziare anche il ragazzo quello lì croato che ha confermato che effettivamente noi siamo sempre presenti come clan eh non ti dico h24 però dalle 8-9 del mattino a se c'è sempre gente e posso assicurarti te lo no ti ho scritto no io ti dico una cosa gli ho scritto no gli ho scritto no mi ha fatto molto piacere il gestione no mi ha fatto molto piacere perché l'ho scritto anche nel messaggio a Stefano perché è avere un sai un party sempre con persone cioè è bello da parecchio che non mi capitava una cosa del genere quindi mi fa molto piacere questa cosa qua ma sono tanti che si potrebbe fare ma ti andare tutti in fondo a tirare un attimo questo ragazzo si si guarda ti voglio essere andati tutti in fondo di là per fargli avvicinare si infatti penso anche io carissimo Francesco buonasera per quando arrivano Adamo via indietro oh si si ma infatti pure io penso che loro tornano per fargli avvicinare infatti eccolo che siamo è un problema però per me mamma mia appena fatto il terremoto resistenza disturbo ne fanno non bello non si fa niente di navigare tanto morivano sto arrivando uno sto arrivando sto arrivando ah ah io ho due secondi e mi lo blocco vai oh ma non sai che mi sa che durate più davvero eh ne hai visto svolta ho scoperto una scoperta nuova svolta voglio ci miss un mitragliatore AK47 che vede no moon ma ce n'è solo uno scusate no se mi ammazzai due ci sono altri tre ok uno ve lo paralizzo da qui eh anzi due ve ne paralizzo da qua vai eccoli là se l'altro non ci caga il cazzo li posso tenere bloccati così eh niente ma imparato l'altro immagino ma facciamo le cose come tradizionali via 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 facciamo le zara via 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 se no vieni a restare vieni a restare vieni a restare uno ghost si sgancia ghost vai a restare io li tengo bloccati il sistema ripristinato facciamo le cose ovvio sempre eh sì sì li tengo bloccati in lago si stiamo a posto ovviamente uno l'ho alzato boh vai ok occhio ghost vieni qua merda no dobbiamo farli entrare i gas non ti possiamo tenere lì ma ha tirato il lanciatore chimico il bastardo eh togliemocilo da da dentro perché sennò è una re riesce a prendere allora resta me e io vado a restare a Mattia ce la fate? un po' attenti che muo avanzano c'è la possibilità che avanzi ci provo ci provo però dobbiamo non c'è caccia come abbiamo fatto poco fa piuttosto attaccati in fondo sì il lanciatore chimico mi ha devastato vai 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 attaccati al muro attaccati al muro vi aspetta un momento un po' più curati non ci occuro avvicinati piano piano vedi qual è il limite vedi qual è il limite se riesci a stare attaccato al muro lì forse da là forse da lì forse non lo so dai 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 scappa scappa via dalla polio io però ho lanciato il limite di ricarica adesso mi servono ha messo la torretta 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 morta 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 torretta morta che facciamo che faccio fare un pezzo che muo arrivano uno uno sta arrivando si arriva lo blocco no no è già andato è un po' arresto del sistema ai 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 che è un'altra figura io sistema riattivato mal funzionamento del sistema andiamo in fondo vediamo se avanza ma non è qua sotto è qua sotto sto arrivando sto arrivando vai vai picchialo male pure vai bravissimi lega dai così diciamo che la vecchia maniera paoli funziona sempre io poi voglio farlo ma sai cos'è che io se gli vado contro con la cosa che infiamma questi qua scappano quindi li voglio far prima entrare occhio che hanno messo una torretta rega una torretta qualcosa l'hanno buttato dentro e poi li infiammo con la cosa centrale forza è fuori la torretta ma quello lì in fondo dove cazzo sta allora mi ha uccisi tre ce ne manca una poi moriamo ma due due c'è ci sono il bag eh sì 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 a me lo facciamo un po' di drop rega allora cioè capite io con la con la cosa che incendia li devo far entrare perché se gli vado contro questi se ne scappano li devo far prima entrare e poi a te uno è bloccato là ma che sta facendo no no costa attenzione tranquillo 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 arresto del sistema vabbè tanto anche se non se li fanno tutti e se ne fanno tre ma non ho capito ma fate l'entrata sono empato sono empato non me lo posso fare non lo posso fare devo un attimo finire ho preso dare la fuoco vai 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 bloccato ok voglio stare mano all'arte è stata mano all'arte ma ci rilassi bastardo aspetto un guanto un guanto io non so ragazzi ragazzi te lo lascio a terra te lo lascio a terra non devi andare avanti così sì ma molto cari fanno i cacciatori il piano no eh sì quello è il problema però siamo sempre qua eh siamo sempre qua e dobbiamo farci dobbiamo fare sempre le cose è buona e buona no però sai cosa cosa ha detto Paoli sai cosa ha proposto Claudio Paoli sai cosa ha proposto Claudio ha detto così a rotazione mettiamo il caso io aspettate un secondo aspettate un secondo si aspetta un attimino lui cosa ha detto che intelligente sta cosa ha detto a una a rotazione l'ultimo l'ultimo cioè tre persone si sganciano e l'ultimo lo completa poi una volta hai capito che andiamo a rotazione così noi prendiamo tutti i divisioni 1 eh così noi comunque ci prendiamo tre esperienze capito non ho capito Claudio Claudio sta cosa qua ha detto che praticamente noi completiamo il summit uno alla volta gli altri tre si sganciano diciamo all'ultimo per colpo del del cacciatore capito così così loro ritornano al 100 io l'ho perso mi ritorno con voi e andiamo avanti così a rotazione in che senso ne arriviamo in fondo facciamo i danni a cacciatori cioè lui praticamente siamo in quattro in squadra no e se fanno tutti i cacciatori io lo abbandono e lo fanno solo in tre solo quando c'è l'ultimo però esattamente così lui rimantiene il 100 e noi ci completiamo qui il quarto ovviamente a rotazione poi noi saltiamo un cacciatore va bene si può fare dai va bene è come si faceva sull'uno per Alex esattamente 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 quando volete a cominciare facciamo facciamo va bene però stefani ogni tanto è gagliardo aspetta che devo un attimo allora vaffanculo però dimmelo vabbè vai no vai nel senso non ti aprivo neanche ti lasciamo far quello devi fare è che per cambiare l'abilità te lo aspetta me ricarica il lanciatore tanto non faccio niente sto qua fermo allora me ne rientro aspetta quanto ti manca quanto ti manca 12 secondi 12 secondi l'ultimo colpo di carica ma è un colpo bombetto però i guantini murakami me li ha dati totò cappati in danno abilità io adesso devo trovare secondo me ho capito quale è il problema ho parlato con Claudio ho capito quale è il problema del 126 di danno perché secondo me c'è qualche qualche errore nella specializzazione ma di che sta da parlare no perché a me fa 119 invece di 125 che cosa le abilità del che cazzo è successo no il danno della torretta eh a me fa 230 eh va buono esagera non ha statistica ha danno effettivo beh ha statistica quanto te fa dimmi un po' io faccio il medico no a me mi fa 119 perché c'è qualche errore nella specializzazione dovrebbe fare 125 perché il medico bomba no nella statistica ti dovrebbe fare allora che è un po' guardato no e c'è nella statistica ho caricato da fare danni 149 danni 149 ok aspetta ma aspetta il messaggio danni del retto ho detto quanti ne hai eh lo sai quello che ti manca allora atomo io 103 ne ho aspetta 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 fermi l'ultimo atomo a te ti serve nello zaino il talento supporto tecnico invece di forze perfettamente combinate perché devi sparare e in questi casi non conviene è meglio supporto tecnico no supporto tecnico lo so supporto tecnico non mi trovo perché devi ho capito ma qua devi sparare ogni 3 secondi non ce la fai vai a perdere danni è meglio supporto tecnico tu dici e poi basta c'hai c'hai tutto c'hai l'unica cosa che forse puoi cambiare è la specializzazione che avrei messo con le abilità invece che danni abilità basta però hai tutto perfetto basta e si più di così allora più di così non puoi avere se poi vuoi fare una cosa figa figa che è quella che sto a fare io per avere un 5% ancora in più e invece che mettermi il muragami mi metto 3 pezzi dell'hard wire eh ma io ce l'ho verde io ce l'ho verde però ho voluto provare questa qua gialla che onestamente non l'avevo mai provata eh non cambia un cacchio perché la differenza è quella che così perdi 5% danni abilità però guadagni in abilità rapidità mentre il hard wire è il viceversa guadagni danni abilità ma perdi in abilità rapidità sta tutto bene no io un po' di danno in più preferisco e metti l'hard wire a 3 pezzi dove hai messo il muragami metti ma infatti dopo farò così nel ritorno alla vecchia build che avevo quindi cosa fai cosa fai zaino della nove zaino la build che ha atomo va benissimo soltanto che guanti girocchiere fondina io li mettere dell'hard wire per avere più danni esatto tanto la ricarica del drone della torretta sono comunque basse non ti serve abilità rapidità mi serve troppo ma diciamo sui 12-11-12 secondi però vanno sono molto veloci il countdown è molto veloce onestamente con l'hard wire usando la sua abilità spacchi e recuperi no ma non lo metti a quattro pezzi l'hard wire poi lo metti a tre metti a tre pezzi ricontra perché a tre pezzi 10% esatto mentre 10% invece il quarto pezzo non ti serve perché abilità riparazione non ti serve un cazzo non c'è non c'è no abilità riparazione e altri pezzi insieme a dagli abilità ah però perdi l'abilità che se spacchi un drop si però a te non ti serve perché mi stia perdendo quindi è ragione beh proverò a fare anche così è quella che devo fare io però mi serve il giubbottino a 9 perfetto per farlo non ce l'ho raga si sentite si si stai sentendo questo ragazzo qui che ha 40 anni mi ha detto è una persona abbastanza grande abbastanza matura abbastanza tranquilla abbastanza gentile ha ripreso a giocare ora si non ha l'espansione ma dice ora se la prende così si mette a livello perché aveva abbandonato un pochino quindi 3 adwired a posto della murakami dicevi e poi si come atomo l'atomo che cosa c'è giubbottino con abilità riparazione e puoi mettere abilità rapida quindi fai due anna u e la maschera cosa metti la maschera quella che c'ha weaver ah weaver lo vuoi ok la neabilità ti posso faccio entrare questo ragazzo armonia così così riconosce poi io utilizzo l'alveare quello del del tecnico perché aumenta i danni arriva da due a me mi arriva a fare 2,3 2,40 quindi fai corretta e alveare si io si però ne basta uno in squadra così capito certo io calco mando la torretta che arriva anche a fare 2,60 certe volte potete avere anche le mod il tempo le capate e tutto no vabbè le mod sbatti poco perché abilità rapidità bella crescendo puoi mettere musicabilità durata abilità buonasera 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 e benvenuto piacere grazie Antonio è quella ragazzola che aveva parlato con te su facebook così lo faccio pure conoscere sì 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 sono il fotografo il fotografo del gruppo ecco tutto a posto come stai perfetto bene bene benissimo vero che siamo tutti gente già non di primo pelo no questo mi fa piacere Antonio Antonio è quello più giovane che ha quasi 60 anni però 60 anni diviso tu 3 non lo fa come discorso 60 anni cavale avanti a finire comunque bella idea mattia tra l'uomo a me ma la toretta che si arriva quasi tu come ti chiami di nome paolino stai attento perché lui di fatti di fa delle build vecchie di identità delle idee vecchie come allora non è vero che dole biglian più un giovane con le idee vecchie capito non è è un piccolo chimico esplosivo esplosivo a tutte queste idee è un discendente di bombetta praticamente comunque bombetta come è andata oggi tutto bene tutto a posto tutto a posto bene bene tutto a posto tutto bene tutto bene e di nome come fa crazy crazy come fa di nome michel ciao ciao michel è vero sono scritto su facebook scusami è che è l'età è l'età hai ripreso da poco a giocare sì saranno tre giorni più o meno che ho ripreso in mano è bello è bello il gioco è cambiato è troppo bello ci sono un sacco di novità è capito un bombetta che ha messo lì con la torretta che mi fa 320.000 grande bombetta senza sincronizzato mi ha fatto 320.000 io devo ancora prendere l'espansione sicuramente la prenderò è proprio un altro gioco è veramente bella e poi hanno fatto un sacco di attività diciamo che poi come clan si può dire il capo clan stefano che siamo ti dico non voglio fare comunque siamo sempre presenti giochiamo tanto facciamo tante attività ci aiutiamo l'uno con l'altro ed è bello così diciamo che c'è tanta collaborazione poi siamo tutti quanti grandicelli con metà quindi non c'è il casino dei ragazzi litigi e cavolate varie capito è la cosa bella questa qua quella è una cosa bella eh sì poi te ne accorgerai oh e se tu hai qualche vuoi fare qualche partirella ce la facciamo se tu hai voglia come vuoi si beh voi siete ai livelloni grandi no no ma non preoccuparti non preoccuparti perché io non ho vita sociale quello discorso non si direbbe ma è sposato ha divisione no è problema che sì c'è una persona che si spaccia per mia moglie in casa ma non l'ho mai visto boh si è stracomunitari guardate si entrano in casa si spacciano per familiari boh se tu vuoi fare qualche partita se ti manca qualcosa vuoi fare qualche attività dimmelo che noi c'è qualcosa ci organizziamo sinceramente sinceramente in tre giorni sto facendo solo per ricordarmi le cose che avevo lasciato perché è talmente cambiato tutto che tu adesso che attività stai facendo non ho la più vagha idea ah ok ho fatto solo sì sì ho fatto solo roba così niente di più ho fatto come adesso fammi vedere sul cosa ho fatto qua ma ragazzi ho proprio mi do il storico sai che non mi ricordo se a livello 30 c'era coni island e altro sai che non mi ricordo c'era sono andato coni island certo ah è vero che è passata troppo non mi ricordo se l'avevano messa dopo che ho fatto il white cock adesso ho rifatto difficile no molto difficile l'ultima roba che ho fatto ma più che altro per fare squadra con altri sì 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 vabbè ma è bello così così uno si riprende anche la mano è bello ci sono più che altro per riprendere un po' siccome ho fatto ho fatto un anno e passa di destini 2 e non sono più abituato al terza persona nel senso molto più poi noi abbiamo il signor paolino che è un cultore di destini sì ogni volta che giochiamo ci spiega ci fa sognare un pochettino con i vari drop che lui ha preso che lui ha no paoli ha conosciuto la scelta voglio la scelta non c'era non c'era ma io ti dico io ti dico una cosa io questo gioco è bello destini è bello però è un po' difficilotto per chi è iniziato da poco capito secondo me però col gruppetto giusto si può fare come te come te divisione come te come te gruppetto giusto ma con gruppetto giusto ci si può giocare come te divisione capito quello è destini destini forse un po' più incasinato con i raid ma voi i raid sono un po' molto più difficile e salta su qua e salta sulla scendi giù salta su un po molto tecnico nel senso da sì non so qua i ride come sono perché non ne ho mai fatti parlo sinceramente però non penso che ci sono cose che corri in una con una sfera o la gara è la gara degli astori o così avrei giocato anche all'uno di destiny si si avrei giocato anche all'uno ma però non non online nel senso però cioè non giocavo non c'avevo ne clan e niente invece su destini due sono proprio niente non clan già da parecchio tempo i clan sei su destini due? che? i clan sei su destini due? the wolf si siamo in 35 mi sembra eh buono c'è un clan abbastanza grande però va bene no vabbè l'unica cosa del destiny se avesse una storia che ti puoi condividere i drop una festa sarebbe eh quello sì sicuramente c'è i drop magari fai adesso non so più mi state preparando mi state preparando mentalmente che rimettono la volta di vetro si hanno detto qualcosa ma non rimettono una volta non mi preparo così tanto sinceramente destiny mi ha proprio un po stancato eh ma perché hanno bisogno proprio di dire perchè più per andare a fare la segreta o per andare a fare calus o per andare a fare una roba o l'altra alla fine sono sempre quelle cose di ride impari la memoria salta di qua salta il primo che sbaglia nel senso sbaglia perchè l'hai fatto così tante volte che sbagli e diventa un po noioso nel senso anche perchè la fine quando c'hai qua l'anarchia quando c'hai qua la xenofagia quando c'hai qua quelle 5 o 6 armi che ti servono basta nel senso si no quello è vero però diciamo a livello di contenuti qualcosa lo cagano sempre fuori eh si no quello sicuramente nel senso adesso faranno una bella stagione eh adesso a novembre esce anno 4 speriamo perchè io sono al 240 di livello stagionale l'ho fatto due volte e mezzo la stagione quindi è un po' stanca quanti sei di luce adesso? beh io sono due cosa sono? sai che dovrei andare a su vedere beh un po' guardo sul telefono non mi ricordo niente più tre giorni che non ci gioco e sono no io non ci gioco da settembre adesso no io sono su e sei tornato sulla terra sei tornato sulla terra e prima ci volazzavi nello spazio adesso sei tornato sulla terra in New York per risalmare bravo hai capito mi sono trastronato mi sono trastronato voleva qualcosa di più simulativo scusate scusate pandemia piena esatto perfetto 1078 è buono è buono beh io devo sentirti Destiny 1 tutta la vita eh Mattia tutta la vita il primo ma io non li ho giocati per New York il primo tutta la vita però so che c'è sta cosa che il secondo ha fatto abbastanza spesso è perché hanno fatto copia in colla ma cosa è successo qua con le cure sono arrivate 20.000 cure tutte insieme ma non so di cosa tipo come se fossero 20 lanciatori chimici di un punto e cos'era? le mie le mie le cure dal medico cioè è possibile cioè Murakami tutto rosso e blu ma è facciamo come ha detto ha fatto il rumore di 4-5 lanciatori chimici aspetta parla di supporto tecnico guarda qua al centro della Murakami che ha fatto in dannabilità con supporto tecnico mi fai schifo mi fai guarda se non lo vuoi me lo prendo io guarda ecco l'ultima roba che ho fatto proprio oggi pomeriggio ho fatto lo zoo nazionale manning quello l'ho fatto lo zooino eh no beh è pure una bella missione quella lì pure una bella missione è finita ho dovuto farlo in difficoltà storia perché non l'avevo mai fatto quindi me l'ha fatto fare solo così non ho potuto scegliere eh sì problema che adesso per per arrivare su un pochettino di di armamento adesso che mi dici che il 515 il massimo eh il problema è che hanno fatto l'aggiornamento qualche mese scusa eri in fascia mondo 4 quindi non sei arrivato in fascia mondo 5 no perché mi sa che l'ho lasciato prima quindi non sei neanche a livello 40 personaggio no 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 non c'ho la spazio a livello 40 non può essere non c'ho la spazio sono a 507 di armamento ah ok ok ma se sei a livello 507 sei quarto mondo però che si può essere anche a livello 500 sì non è arrivato al fascia mondo 5 lui perché all'inizio del gioco non l'hanno messo ci hanno messo un mese e mezzo per mettere a fascia mondo 5 inizialmente non c'era eh sì però in teoria se lui si coppa l'aggiornamento va direttamente a noi certo come come si arriva al 30 a new york con l'equipaggiamento base 5 e 15 che ti prendi la sua equipaggiamento base 30 non ce l'ha più quello equipaggiamento la new york eh sì ma è quello non ho avuto aspetta 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 al new york non c'ha niente raptor quella che c'ha washington non lo può mettere ah beh certo aspettate che cambio build dopo che mi carica l'ultima parte sapete l'unica cosa che non ho mai capito è sto dicendo che non ho mai capito o che non mi ricordo più adesso forse mi sto confondendo un po' con altri giochi ma non mi ricordo più come si fanno ricalibrare le armi proprio alla casa bianca c'è la stazione di ricalibrazione no ce ne sono due mi sembra le stazioni di ricalibrazione eh anche la libreria ah hanno cambiato anche quelle vero una è il fai da te che ti serve per costruire l'altra è quella che è i ricalibri però ora l'hanno cambiata un po' di tempo quindi bombetta c'è una libreria delle ricalibrazioni è una figata è una figata è una figata troppa tu prendi un oggetto vai lì nella libreria e ti dice se ti manca ti dice oh guarda ti manca smontalo e ti rimane lì e praticamente tu ogni volta che dovrai ricalibrare non hai bisogno di un'altra arma che magari ha lo stesso attributo te lo dà direttamente dalla libreria all'infinito prendi l'arma che vuoi ricalibrare e la ricalibi ah ecco l'hanno reso più semplice man mano che trovi drop cerchi di prendere god roll quando trovi qualcosa a god roll quindi al massimo con l'attributo lo prendi lo vai a smontare nella libreria così ce l'hai già là nella libreria fisso ma la libreria è dentro? e dov'è la stazione di ricalibrazione? è qua la raga no è bloccata ragazzi non c'è anche la tossina in testa oh l'è oh no guarda 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 attenzione arresto del sistema minchia è arrivato libera via calibrazione eh sono empato appena rifinisce la venta ma non ti è scappato giù non capito e togliamoci la venta quindi mi hai detto voi una volta a testa me ne vado io me ne vado io si si allora va via lui poi dopo vado via io e poi vi siete d'accordo ecco lì ma ci fate una cazzata perché c'ho la cosa che infiamma e la gente se ne scappa lo devo far entrare dentro così lo teniamo dentro infiammato eh si devi stare più lontano eh si eh si è proprio che se ne vai a correre un palazzo ahahah 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 adesso voglio vedere di Halloween di Destiny se quella cazzo di scopa si può trovare o dove forse shoppare si stai matto si la storia a scopa bella era suo mi sembra che era da shoppare con la con la no però poi con la luce non con l'argento ah ok con le polveri ok settimana scorsa però o due settimane fa dovevo prendere la proce oh questo gioco qua raga sta cagando stavo provando questo gioco ragazzi troppo forte quale sei questo qua zombie armor non credevo che era così bello ehi grazie gentili oggi mi fai non fa per te quel gioco eh tu non fa per te non fa per te eh vabbè però mica è forte perché questo cecchino mica mi è messo divertente vabbè ci sta ci sta mi piace perché ci assomiglia molto a division come personaggio quello che fa in terza persona che spara con cecchino ecco poi lì ghost venite un attimo qua indietro vediamo ma come movimenti e come the division se quando se lo vuoi vedere non so se posso fare lo share play ma è quando si 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 come proprio ci sono adesso vado a vedere un video su youtube ma io adesso ciò me lo metto nel canale sinceramente dico la vita su youtube su youtube faceva schifo rispetto a come sto giocando cioè ora lo sto vedendo che aspetta che lo blocco aspetta che lo blocco ai bloccato un altro vai bloccata watch all'hanno mangiata tutto ma ce li siamo mangiati porco ci vedete due dietro 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 ma l'ultimo sono impato io se faccio lo short play vediamo se posso fare lo short play vai vai tornate indietro tornate indietro che avanzano non è qualcosa qua davanti eh no non è fallo sali proprio perché se no non lo posso imparare se no non lo posso bloccare sistema ripristinato prima che prima che li diviano la io sto cercando stica questa cazza di maschera oh porco giusto non mi arriva eh via qua bombe ah Stefano vi dividi un'occhiata al al discorso della della cosa lì della specializzazione che secondo me c'è qualcosa che non va che non mi sale a 125 eh attenti bombe via via da bombetta ragazzi che c'è la bombe speso io sono impato guardate via niente e poi mi fa e poi e poi guardiamo dai vieni un quarto eh stai sto facendo i ricacciatori dammi solo un minuto esatto un paio di minuto esatto ah beh ah beh no un minuto esatto perché sto facendo l'ultimo cacciatore poi mi sgruppò io ho visto da quel tale ale non è male come il giochino carino mamma mia quel tale ale che idolo eccolo no no eh no è quello a me lo scalda a come sta arrivando sta arrivando arrivando giratevi bloccato vai preso boh vado mi è rimasto l'ultimo a posto lo vedi troppe maravaghe vai ce la fai? a posto ok lo vado a bloccare raga che vuoi uscire hai capito? sai che abbiamo fatto? abbiamo usato l'idea di Claudio praticamente noi ci facciamo quattro cacciatori di o no tre cacciatori di quattro per i voltesi io mi sgruppo gli altri se lo fanno e poi si attaccano a me e poi si attaccano a me oh esotico ma vuole fare fotografie oh hai troppato legal no no bigorne che legal ah beh sì quello ormai fai la fotografia fai la fotografia che la mettiamo su facebook ma io sono il fotografo io sono il fotografo l'allineamento strategico se qualcuno lo vuole ragazzi qualcuno vuole l'allineamento strategico? no c'è una light nominale quello con il dominio perfetto c'è una light nominale c'è? aspettiamo te lo mi butto per terra che sta guardando oh non mi da quello che mi serve maledetto maledetto veramente annaggia a lui è un chiaramente attacchi qua 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 mi ha dato un sac cioè ma veramente mi ha dato un sacchi schifezze porca miseria mamma mia poi andò ecco qualcuno ha droppato un giubbottino a una uo vero ah tieni che io tanto ce ne ho 40 mila di stricolosi eh lo guardo puoi aspetti un attimo giubbottino ah la zeta della china Ah ah, ho trovato niente di uguale, questo qualche livello scelto ha fatto, la schiena della Murakami è un modeno, questo è un modeno, guardate il pet della Murakami, però tutto cappato di rosso, eh pure io, prima me l'ho dato quando l'ho detto, ma porca miseria, ma come si fa? Aspetta Murakami, bello, lo vuoi? Stai, fammi vedere il suo gioco, stai, lo regalo, eh, lo hai tolto a me, mi regali, mi regali, sto contento, aspetta, ma l'ho preso suo, lo cancello dello sbaglio, no, ma che ci faccio, sei droppato qualche modo di resistenza ma scusa, vi ascia, non lo vedo, non mi dà la possibilità, mi capisco il disturbo che le tengo, aspetta un po' di attimo, ma io non devo avviare, tu devi accettare, tu devi accettare, tu devi accettare, tu devi accettare, eh sì, esatto, lo vedi? Adesso no, dimandami il l'invito? Allora, adesso c'è Antonio, dobbiamo aspettare quando va a finire lì, che lui c'ha il livello 100 e ci attacchiamo, eh, come vedete ce l'ho, se no ho combinato qualche casì. Andate a dare l'invito, aspetta. Allineamento strategico. No, il livello 100 è quel quasi, apposta. Dominio rapidissimo, chiedeva un effetto di stato. Fa lì, posso dire che fa un po' schifo, due giorni fa lì al 406 a 465, ma sei animale? No, ma è l'anerdato, anerdato come... Ma sei animale? Ma sei animale? Ma scusa, scusa Antonio, ma tu già ci sei nello shortplay? Eh, io stai, io nel... Divendere, sai dove? Dove? Ho notato. Divendere, dove il party? Ah, dove sai il party? Ah, dove sai il party? Parti? Eh, share play di scherzo. Ah, eccolo, party, ma porco, no, perché, no, impossibile, è impossibile andare in share play, share play, partecipa a share play di non mi dà la possibilità. Partecipa. Ah, ok, ok.